Bappé Occhio al pallone per il possibile vantaggio 1-0, c'è il gol del vantaggio L'Hotem Occhio in mezzo, può cercare il cross Non è finita Attenzione, ecco il gol Conteggio Cagliallo per lui Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte, altrimenti fuori Succedimento interessante E c'è il gol Partita che l'Hotem Non può sbagliare da lì Pericolo vale il gioco E la messa Gesto tecnico spettacolare I tifosi di casa sembrano mutoliti di fronte alla prestazione degli avversari Si pierde, sono stati inferiori in ogni zona del campo Non sono riusciti a opporre un'adeguata resistenza Pallone controllato da Chiellini Grand dribbling Pallone controllato da Chiellini Pallone controllato da Chiellini Pallone controllato da Chiellini